Stato di Sinistra Italiana e professore all'Università di Bologna, si intitola l'Europa nel disordine globale. Degli anni Ottanta è necessario ora attivare molte linee di pensiero e molte linee di azione politica. E' stata una sconfitta su tutto l'orizzonte, il secondo tempo, la rivincita, deve essere organizzata in modo altrettanto massiccio. Detto questo, esiste una politica trasformativa, esiste una politica creativa. Ma esiste anche una politica che è conservativa, una politica che pratica la velocità, ma in realtà è al servizio dello stato di cose esistente e cerca, senza peraltro riuscirci, di mascherare, di contenere i danni della trasformazione neoliberista ormai fuori controllo. I danni sono, essenzialmente, l'aumento vertiginoso della disuguaglianza, al di là della linea di incremento storico che Picchetti ha descritto. Abbiamo bisogno del ritorno della grande politica, di una grande politica dal basso, come elaborazione comune, come partecipazione, come confronto e lotte sui territori, come valorizzazione dei conflitti sociali, come definizione di ciò che è comune, come capacità di trasformare l'entusiasmo e la rabbia in potere costituente. Una grande politica che sia anche capacità di organizzazione, di progettualità, di forma politica. Una grande politica che sia lo sforzo di dare un volto, una figura, una rappresentazione alle contraddizioni profonde indotte dal governo dispotico del capitale nella società. Una politica, dunque, fatta di movimenti, ma anche della raffigurazione organizzata di una parte, poiché la politica senza la nozione di parte non esiste, di una parte che lotta contro la disuguaglianza per la giustizia. Una politica che trova in sé, come proprio elemento fondamentale, anche la figura dello Stato giusto. Una politica contro la privatizzazione neoliberista della vita sociale, che è anche la privazione delle basi elementari per la crescita e la fioritura delle soggettività. Quindi, dato il bisogno di questa grande politica, c'è anche bisogno di pensiero. Di un pensiero non isterico, come il pensiero populista. Di un pensiero non ipocrita, come il pensiero dell'establishment. Di un pensiero non violento, come quello della destra. Di un pensiero non utopico, come quello che a volte ci è capitato di pensare. C'è bisogno di pensiero critico. Di un pensiero che sia tanto decostruttivo quanto costruttivo. Che sia radicale e appassionato, visionario e concreto. Soprattutto che sia di sinistra. Di sinistra, in questo caso, significa che il pensiero di cui abbiamo bisogno è capace di vedere dove gli altri vedono semplicemente problemi e dell'establishment, dove gli altri vedono semplicemente complotti e sono i populisti, dove gli altri vedono semplicemente minacce e sono quelli della destra. Il pensiero di sinistra vede invece questioni, sul termine presente nel pensiero gransciano, vede questioni, questioni strutturali nominate da contraddizioni reali. E le vuole vedere, capire e superarle. E dunque c'è bisogno di politica, c'è bisogno di pensiero, c'è bisogno di soggettività politica. Ossia della volontà di passare da un'esistenza dispersa a un'esistenza organizzata, dalla passività all'attività, dall'io al noi. A molti noi. Il noi dello Stato, del partito, del sindacato, dei tutti i movimenti che animano le lotte in Italia e in Europa. Noi diversi, animati da logiche diverse, orientati al medesimo fine di rivitalizzare la democrazia, di darle un respiro più ampio ed energico. Molti noi, molti soggetti, che non possono escludersi, ma debbono intersecarsi, cercarsi, discutere senza settarismi né supponenza. Infine, c'è bisogno di capire che molti tempi convivono nel nostro tempo. Molte macerie e molte speranze, molti tramonti e molti inizi, molti ritorni e molte fughe in avanti. Che noi oggi viviamo lo scollamento fra esperienza e orizzonte d'attesa, così che la politica non è più sorretta da alcuna certezza dello sviluppo storico, da alcuna necessità del progresso. Ogni atto politico, oggi, ogni progetto, ogni conflitto è una scommessa appassionante, certo. È un rischio. È un confronto senza rete con i mille volti del mondo contemporaneo. Detto questo, e per restare più strettamente all'argomento che mi è stato assegnato, dobbiamo notare che le due principali questioni che determinano la politica, non sono problemi, sono questioni, che determinano la politica italiana, oggi, nascono entrambe fuori dall'Italia. Sto parlando dei vincoli dell'euro a trazione germanica e delle politiche di alcuni, non pochi, stati europei e sto parlando anche della guerra in Medio Oriente e Nord Africa e delle conseguenze dell'una e dell'altra. conseguenze materiali, cioè la povertà, l'impoverimento sociale e democratico delle nostre società e la presenza di fenomeni estremamente diversi fra di loro, entrambi riconducibili al disastro geopolitico che si estende dall'Afghanistan alla Libia, cioè le migrazioni e il terrorismo, ripeto, non riconducibili l'uno all'altro, ma entrambi a un disastro che sta alle spalle. Queste questioni, la povertà economica, la povertà della democrazia e il disastro geopolitico con le sue conseguenze sono spiegate dalla politica e dalla cultura mainstream come processi inevitabili o addirittura come fatti naturali o comunque inspiegabili, oppure come un insieme di casi pietosi o di disumana barbarie, intorno ai quali accendere passioni ed emozioni, ben presto rovesciabili di segno. Le emozioni della pietà si rovesciano in xenofobia e nelle richieste di interventi militari pacificatori. Invece, la posizione della sinistra critica deve essere molto più radicale e articolata. Sulla guerra, brevemente, la guerra in cui è coinvolta l'Europa ha un fronte orientale, al momento silente, ma in realtà probabilmente una delle origini profonde è anche del disastro geopolitico di cui parlavamo prima, il fronte orientale che va dagli stati baltici all'Ucraina e il fronte sud. Davanti a questa complessità della guerra, oggi, io non starò qui a proporre analisi su questo, stiamo organizzando seminari nell'ambito del gruppo di sinistra italiana, oggi voglio solo dire che la sinistra critica ha il dovere di riconoscere in queste tragedie delle modificazioni profonde della guerra, ad esempio l'uso delle popolazioni come arma biopolitica su larga scala per fare pressione e sul campo di battaglia e sugli stati europei che ricevono i migranti. dobbiamo riconoscere che ciò è definibile guerra globale, ovvero sia la esposizione totale dello Stato e delle nostre vite alla contingenza più assoluta. Tutto può capitare in ogni momento. C'è un grande disordine sotto il cielo e noi dobbiamo riuscire non tanto a sfruttarlo quanto a trasformarlo in pace. Dobbiamo riconoscere inoltre che se questo fronte sud questo disastro geopolitico e geoeconomico è estremamente complesso vi giocano politiche di potenza di medie potenze di superpotenze connesse con antichissimi conflitti teologico-politici in cui praticamente tutti possono allearsi con tutti ed essere nemici di tutti è certamente una situazione di grandissima complessità e tuttavia bisogna avere la forza di dire che qualcuno ha provato a generare questo caos perché era nell'interesse di qualcuno governare quell'area attraverso la distruzione degli stati che vi insistevano dobbiamo riconoscere che quel caos ha delle responsabilità ben precise dall'invasione dell'Afghanistan alla distruzione dell'Iraq e dobbiamo riconoscere che in questo momento quel caos geopolitico ha generato una situazione che è praticamente fuori controllo e che è uno dei motivi più gravi di apprezzione perché le condizioni di quel contesto sono tali che il minimo errore può provocare chissà quali disastrose conseguenze a ciò si aggiunga che metà circa della massa dei profughi che arriva in Europa non nasce da quel disastro ma nasce dalla desertificazione dell'Africa e i coprofughi dunque e questa desertificazione è un fenomeno fisico ma è un fenomeno fisico che nasce da un modello di sviluppo davanti a tutto ciò la sinistra deve riconoscere la immensità dei problemi quando si parla dei problemi cosiddetti di politica internazionale c'è davvero da sentir tremare le vene e i polsi e tuttavia non si può tirare indietro l'Europa in tutto ciò l'Europa non ha voce l'Europa che conosciamo noi non è fatta per fare politica è un'Europa che nasce da un'ipotesi funzionalista non da un'ipotesi federale è un'Europa che ha trovato nell'euro il proprio compimento e al tempo stesso probabilmente il proprio punto d'arresto un euro costruito come fotocopia del marco un euro sottoposto ai rigidi vincoli politico-economici dell'ordoliberalismo tedesco sperando dopo la costruzione dell'euro si sperava che seguisse la politica che alla costruzione della moneta seguisse la politica europea è successo il contrario è successo che alla costruzione dell'euro è rinata più virulenta che mai la politica dei singoli stati non solo il prezzo dell'euro è stato altissimo in termini economici e sociali e di democrazia l'euro è stato definito fino dalle prime ipotesi che erano circolate negli anni 70 è stato definito una politica di deflazione salariale e di svalorizzazione del lavoro ma agli effetti sociali dell'euro si sono sommati gli effetti del disastro geopolitico e della desertificazione dell'Africa che hanno portato dentro delle società europee provate dalla crisi permanente non occasionale permanente della politica dell'ordoliberismo dentro quella crisi hanno portato ancora ulteriori motivi di crisi così che gli stati europei hanno avuto lo spazio per reagire autonomamente praticando riduzione della democrazia verticalizzazione del potere costruzione di muri esclusione crescente dei deboli o loro inclusione subalterna così che l'Europa dell'euro dei muri e del populismo in lotta pseudo lotta contro la tecnocrazia è in pratica il fronte nord del nostro paese stretti fra il fronte nord e il fronte sud la politica della sinistra come si deve comportare come deve essere orientata certamente deve dichiararsi estranea tanto all'incubo tecnocratico quanto all'incubo nazionalpopulista quanto alle pratiche dello stato d'eccezione con cui le elite europee cercano di governare ciò che resta del sogno dell'Europa deve praticare l'incrocio di movimenti e di forme la politica di sinistra di energia e di sicurezza deve candidarsi a indicare una direzione politica alternativa non solo di protesta di esercitare la forza della giustizia nel caso specifico l'Italia ha una naturale prospettiva euro-mediterranea il suo interesse è avvicinare i popoli accettare le differenze e vedere le contraddizioni il compito della sinistra oggi penso si possa dire è convivere con il conflitto per superarlo con una volontà di pace che non entri nella logica obsoleta ipocrita della guerra giusta che non cerchi di esportare la democrazia con la guerra sapendo anzi che la giustizia previene e neutralizza la guerra quanto all'Europa se l'impegno per la giustizia è la nostra cifra propongo di riflettere sull'ipotesi che non sia opportuno abbandonare del tutto la prospettiva dello Stato come strumento della politica la prospettiva dello Stato diventa una prospettiva reazionaria quando è lo Stato ingiusto quando è lo Stato del capitale quando è lo Stato forte con i deboli e debole con i forti lo Stato giusto è l'obiettivo primario il primo step di una politica di sinistra a partire dallo Stato giusto che si può innescare il meccanismo capace di dare energia politica e così di trasformare l'Europa del funzionalismo mercatista non si può quindi dire semplicemente più Europa non basta dire più Europa a questa domanda bisogna a questa affermazione bisogna rispondere con una domanda quale Europa più Europa dell'euro o forse più Europa democratica se è più Europa democratica un percorso di democratizzazione delle istituzioni europee è sicuramente quello di dare un nuovo ruolo al Parlamento europeo ad esempio metterlo in grado di dare la fiducia alla Commissione sicuramente un percorso è quello di aumentare il bilancio europeo dal livello bassissimo in cui oggi è congelato ma sicuramente è di dare un nuovo spazio alla dimensione democratica degli stati solo stati democratici possono rinegoziare i trattati su basi democratiche e non oligarchiche e redirezionare l'intera politica economica europea orientandola all'occupazione e all'inclusione e non ai dogmatismi monetaristi quindi non mi sembra opportuno lo scontro frontale fra le ipotesi costituenti e le ipotesi destituenti fra la linea di una politica tutta immersa nei movimenti transnazionali e la linea di una politica che rivendica le costruzioni della modernità il partito e lo Stato come costruzioni che non a caso sono state svuotate di contenuto dalla politica neoliberista ci sarà un motivo ci sarà un motivo non a caso è stata posta in essere l'offensiva sistematica ventennale nei confronti della politica democratica non a caso è stata posta in essere l'offensiva ventennale contro contro lo Stato contro i partiti non cadiamo nella pericolosissima illusione di poter fare a meno di ciò di definire ciò modernariato contro lo straordinario accumulo di potere delle multinazionali contro il gigantesco potere economico politico e mediatico dei grandi gruppi che governano il mondo dei padroni del mondo non si può andare se non con la politica organizzata ora è giusto è giusto tenere pensare e affermare che la politica organizzata si nutre ha la propria energia trae la propria vita da ciò che si muove e lotta nei territori è vero è innegabile senza questo non c'è alcuna speranza al tempo stesso non abbiamo speranza politica realisticamente parlando se non rivitalizzando e ridemocratizzando le grandi strutture politiche dell'età moderna non a caso siamo qui per fare un partito non a caso il nostro primo obiettivo sarà confrontarci nelle elezioni per misurarci nella prospettiva del governo non sarà oggi ma sarà se non ci misuriamo su quello faremo soltanto testimonianza e noi non vogliamo testimoniare noi vogliamo essere la sinistra che fa passare il caos in cosmo il disordine in ordine con la politica in modo tale e chiudo che si possa dire che con un poeta che nell'immensa città del sole il caos finalmente cosmo con l'umana compagnia gli uomini tutti fra sé confederati grazie a tutti grazie a tutti